Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi vi parliamo di Nova 3 Near Orbit, un gioco molto interessante, una sorta di sparatutto del futuro con tanta azione, tanta lotta, mosse speciali e sempre la grande storia epica di questo gioco del dover salvare la razza umana dalla sua estinzione. Vari scenari, varie cose che si possono fare, direi di partire subito con il gioco, vi faccio vedere un po' l'ambientazione che per la fine è questo quello che facciamo, vi facciamo vedere un po' come funziona senza che dovete scaricare voi ogni volta i vari giochi per capire quale può piacervi. Andiamo su riprendi, noi praticamente viviamo la situazione, vedete in prima persona, ora stiamo parlando, naturalmente il gioco in inglese ma i sottotitoli sono in italiano, premendo questo tasto si passa alla modalità mirino, insomma vi sto facendo vedere un po' di tutorial così abbiamo ricaricato, anzi abbiamo lanciato una granata se non ricordo male, ne lanciamo un'altra non è che sia un grande giocatore di sparatutto sinceramente non ci ho mai tanto giocato ma sto facendo una, come dire, una sorta di strappo alla regola, vi faccio rivedere, c'è questa mossa speciale che, vedete, spara una sorta di, come potrei chiamarlo, di missile con la mano, ve lo faccio rivedere, vedete questa sorta di, di bomba particolare, insomma il gioco è questo, non fate troppo caso a me che non sono un grandissimo giocatore di sparatutto non mi sono mai piaciuto tantissimo, però devo dire che il gioco è molto bello e avvincente da giocare sul telefono, quindi un gioco che però pesa 2 GB quasi, quindi mi raccomando quando lo scaricate cercate di avere memoria libera a sufficienza e scaricabile gratuitamente da poco sul market di Android, quindi sicuramente un gioco interessante con una grafica eccezionale per sfogarsi un po', quindi ciao amici di MobileOS, ci vediamo alla prossima per la rubrica il gioco della settimana appunto di MobileOS.it, ciao!